Siamo giunti a Monte, siamo nella parte alta degli impianti di Camigliatello Silano, precisamente il rifugio e stiamo notando la bellezza, lo spettacolo che si presenta oggi agli occhi di chi sceglie di trascorrere una giornata in montagna. Abbiamo fatto un primo intervento da valle, ritorniamo a parlare di questa bellezza e di questa sorpresa continua che ci sta facendo la neve anche senza qualche piccolo problema che però comunque con le dovute precauzioni ripeto sempre è risolvibile. Allora impianti aperti in funzione, piste battute, continua a nevicare anche in alto, vedete alle mie spalle che spettacolo si presenta e vi auguriamo una buona giornata, una buona giornata a chi decide oggi di trascorrere una giornata sulle piste da sci e aspettiamo questo weekend che sta per arrivare con tanta di quella neve che ci aspetta e che vi aspetta, guardate che cosa c'è, questa è la nostra Sila, questa è la Calabria.